Pede Montana, il presidente della Lombardia, Tilio Fontana, cerca di imprimere nuova spinta all'opera. La chiusura del contenzioso su Pede Montana dice che è una buona notizia ed è un segnale di buonsenso, è il via libera per la predisposizione del bando di gara per il nuovo lotto dell'opera. Un'infrastruttura necessaria ai cittadini e alle imprese che dovrà rispondere ai criteri di trasparenza e sostenibilità.